Sono un migliaio gli avvistamenti di fenomeni anomali, di luci strane nel cielo nella storia d'Italia, vale a dire dalla 4000 a.C. ai giorni nostri e quanto emerge da una indagine realizzata da un ufologo messinese che si chiama Pietro Torre, autore di una imponente monografia strane luci nella storia d'Italia. Torre è quadruvato da diversi altri ricercatori, ha meticolosamente catalogato e messo a computer tutti gli avvistamenti anno per anno, secolo per secolo della storia d'Italia cercando di dare anche una spiegazione. Il quadro che ne esce è molto interessante perché per l'appunto un migliaio di resoconti fra cronache astronomiche, in molti casi si trattava di bolidi, di meteore, fra leggende, leggende ecclesiastiche piuttosto che leggende medievali, in alcuni casi anche di protesta contro la Chiesa come la comparsa dell'asino pontificio che non era un alieno anti-litteram ma si trattava di un libello che voleva essere satirico nei confronti della Chiesa e poi anche qualche grossa sorpresa, per esempio il celebre caso di Genova dei primi di agosto del 1608, uno puscoletto che riferiva di strane creature uscite dal mare, ebbene Pietro Torre è andato a fondo della cosa citando anche le ricerche di Diego Cuoghi che ha recuperato il documento originale da sempre collocato nella biblioteca ad inizio e si è scoperto semplicemente che era un canar, vale a dire uno scherzo che era stato giocato e quindi molta documentazione, sono sei capitoli con una lunga prefazione di Edoardo Russo, il primo capitolo arriva fino all'anno 1000 d.C., il secondo analizza le segnalazioni dal 1000 al 1500 e poi via via il XVI, XVII, XVIII e XIX secolo, nutrita anche la sezione degli UFO del 1800, sono molti addirittura gli UFO dell'unità d'Italia, cose strane che sono viste, sono state sempre viste nel cielo e riferite dai vari giornali dell'epoca, una nutrita casistica e chi volesse acquistare questo libro può contattare tranquillamente il CISU tramite il proprio sito internet, insomma una monografia utilissima per tutti quei ricercatori che devono documentarsi, scrivere o approfondire la documentazione di quella che è stata definita la pre-ufologia, questi sono i pre-ufo e pre-ufo-cat il nome di questo catalogo. L'aspetto interessante è che si è andati a fondo delle varie segnalazioni perché spesso in passato, dopo che i primi pionieri, cioè Desmond Leslie, il collega di George Adansky e Harold Wilkins avevano setacciato ampiamente tutta la letteratura del passato, poi c'erano stati diversi eruditi come il francese Paul Misraki o Raymond Drake, Brinsley Lepore Trench, che avevano cercato in tutti i testi classici quelli che potevano essere i dischi volanti ante Litteram, in seguito si è scoperto che quello che costituirà la cripeologia molte volte era costituito da racconti che erano stati stravolti, maltradotti o addirittura estrapolati da un contesto completamente diverso, facendo dire l'esatto opposto di quello che era nelle intenzioni degli autori. Ebbene, questo libro cerca infine di fare un po' di chiarezza, di mettere un po' d'ordine tornando alle fonti originali, quindi un libro decisamente interessante per chiunque voglia scrivere o documentarsi sulle strane luci della storia d'Italia di Pietro Torre, edizioni UPR.